Passiamo all'Atalanta, perché le statistiche ci dicono che nessuna squadra italiana ha perso le prime tre partite giocate in Champions. È un dato allarmante? No, non è un dato allarmante, è un dato che dispiace per l'Atalanta di Gasperini, che in Italia sta facendo vedere cose importantissime. È chiaro che la Champions League è un'altra storia. La prima partita l'ha persa male prendendo quattro gol, la terza partita questa ne ha presi cinque dal City, nella seconda ne ha presi due, quindi sicuramente c'è un problema difensivo a questo livello in Europa. Anche in Italia ogni tanto l'Atalanta subisce, ha preso tre gol anche dalla Lazio, però non sono dati secondo me che devono far preoccupare Gasperini per quello che si chiede all'Atalanta, sia in campionato sia in Europa. La prima mezz'ora dell'Atalanta ha giocato una grande mezz'ora anche contro il City. È chiaro che a questo livello poi però la qualità dei singoli e in questo caso soprattutto nella fase difensiva dei difensori è importante e quando il City dilaga, non ce n'è più per nessuno, per cui poi a un certo punto poteva anche finire colpo all'ottoliere. Però non è una sconfitta umiliante per l'Atalanta, ha fatto vedere il suo gioco per una porzione di partita e poi è uscita fuori una differenza che a questi livelli è troppo ampia e quindi nessun dramma per l'Atalanta. Sono tre sconfitte, insomma non è ancora fuori dall'Europa, speriamo che nelle prossime tre partite faccia tesoro degli errori commessi in queste prime tre per andare a recimolare dei punti e delle soddisfazioni. Grazie Andrea Di Caro. Grazie a voi. Continuate a seguirci in Edicola e su Gazetta.it perché domani sarà un'altra grande notte di Champions. Grazie a tutti.